Stiamo preparando come tutte le partite, stiamo cercando di analizzare le cose che sono andate meno e le cose che sono andate un po' meglio, come tutte le partite. Ovviamente in queste partite non abbiamo fatto, diciamo, dal punto di vista realizzativo, delle partite importanti, però l'obiettivo è sempre stato raggiunto, che è stato quello della vittoria. Stiamo facendo un ottimo campionato fino adesso. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci domenica dopo domenica e di arrivare sempre più in alto. I record, i dati, queste cose qua, noi dentro lo spugliatore non le guardiamo, cerchiamo di fare il nostro meglio e il resto arriverà. Ma ti posso dire, per il momento sono abbastanza soddisfatto del mio percorso fatto finora. Ovviamente sono molto critico con me stesso e penso e credo che avrò ancora tanto da dare. No, la testa è assolutamente sulla Turris, perché non puoi nel calcio, come tutte le altre cose, pensare molto lontano. Quindi l'importante è prepararsi bene per la Turris e poi col Catanzaro sarà una bellissima partita e ci penseremo dopo.